Sì Riccardo se a sabato non sono morto Cioè... quello spento Scusate per il casino Dunque... Sì Qui... Non è sorta... Beh... Ma... Non è... Vediamo un po' da me adatto Vediamo un po' da me adatto Ok... Più pesante sei? Ok... È tipo un anello... Di... Di... Di Dark Souls Più pesante sei... Più... Più duro che pesce Più... ... . qui cambia qualcosa non penso anzi che posso correre dunque qua non penso 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 ok non penso 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 questi non penso 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 perché non penso 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 ok non penso 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 quindi non penso 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 ancora non penso 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 penso non 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 penso penso non 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 penso ok non penso 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 se non penso 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 non penso 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 penso